Ciao a tutti, in questo tutorial andiamo a vedere come guadagnare commissioni ricorrenti utilizzando le offerte in Cost per Actions. È una pagina dove presenteremo queste offerte che andremo a costruire gratuitamente. Le Cost per Actions sono quelle offerte che ci faranno guadagnare una commissione ogni qualvolta il visitatore andrà a completare una action, una azione. Questa azione può variare dall'inserimento della mail, del numero di telefono, del cap postale, del numero di carta di credito o dallo scaricare e installare un'applicazione sul proprio cellulare o desktop. Comunque sia, non c'è una vendita, ossia il visitatore non deve spendere un euro, almeno non in prima battuta. In questo tutorial andremo a vedere alcune offerte in Cost per Action, andremo a costruire per intero la pagina per promuoverli e infine vi farò vedere dove e come promuoverla gratuitamente per incominciare a guadagnare già da subito. Ok, il primo step dell'interno procedimento è naturalmente quello di andare a trovare un'offerta in Cost per Action che possiamo andare a promuovere con il nostro link magnet. Utilizzo questo sito, CPA Grippe, è uno dei migliori in circolazione con moltissime offerte anche in lingua italiana per coloro che appunto vorranno andare a effettuare promozioni in madrelingua. Quindi qua andate a registrarvi, naturalmente se non avete ancora un account cliccate su Register, inserite tutti quanti i vostri dettagli come al solito e qua vi consiglio dove dice Publisher Type di andare a selezionare GPT. Questo faciliterà il procedimento di accettazione da parte di CPA Grippe, non chiedetemi perché non è una cosa che ho scoperto io, l'ho trovata online. Comunque vi consiglio di fare questo. Io effettuo semplicemente il login. Ok, una volta che abbiamo effettato il login, stiamo all'interno del pannello di controllo, andiamo su Offer Tools, clicchiamo su My Offers e qua naturalmente possiamo andare a scegliere le offerte che vogliamo. Andiamo a selezionare Italia, ad esempio, vediamo che cosa ci esce fuori. Ok, moltissime offerte, 1.37, 0.51, 1.37, che vanno diciamo dalle 50 centesimi di dollaro. Per molte offerte basterà inserire soltanto l'e-mail o lo zip, quindi il codice di alimento postale oppure la e-mail e per qualche altra invece bisogna effettuare un'installazione su un mobile e per qualcuno invece dobbiamo andare a inserire la carta di credito, però possiamo vedere che il payout è molto maggiore, 14.55 dollari per ogni payout. Voi scegliete quello che ritenete più opportuno per la vostra strategia di marketing. Io ho precedentemente identificato un paio di offerte che voglio promuovere per questo video, per questo esempio. Allora, le offerte che andremo a promuovere, vediamo se le troviamo. Allora, entra per una nuova PS5, questa qui. Questa qui ottieni un nuovissimo iPhone 13. E poi c'era un buono sconto che non mi ricordo più dove. Ok, ottieni una gift card supermercato da 150 euro. Andiamo a promuovere queste tre offerte. Possiamo cliccare su ognuna di queste. Possiamo vedere la landing page. Possiamo vedere anche l'URL con già il nostro codice di affiliato embedded che possiamo semplicemente copiare e poi incollare sul nostro lead magnet. Cosa che vi farò vedere tra un pochino. Chiudiamo questa. Ok, il secondo step è quello di creare una pagina sulla quale appunto possiamo andare a promuovere le nostre offerte. Quindi qui siamo su linktree.ee. Vi metto tutti quanti i link sotto questo video, naturalmente. Qua abbiamo diversi pricing plan, se li vogliamo utilizzare con diverse opzioni, 8, 3, 1.5 euro al mese. A noi invece va bene il piano gratuito per sempre. Free forever, clicchiamo su Join for free oppure sulla pagina d'ingresso, clicchiamo su Get started for free. Andiamo a selezionare il nostro username che poi potremo cambiare anche dopo, la mail, la password e creiamo il nostro account. Io ne ho già uno, quindi effettuo semplicemente il login. Ok, una volta che siamo dentro, possiamo andare su Appearance. Qua andiamo a selezionare una immagine nel frattempo, quindi pick an image, di solito il vostro logo, la vostra faccia, scendete un po' l'immagine che volete. Allora, upload your own image. Andiamo a selezionare un'immagine di logo che ho preparato precedentemente. Save and upload. Ok, quindi i cambiamenti andranno a essere mostrati qua in questa preview mobile. Qua possiamo inserire una descrizione bio, se vogliamo, di 80 caratteri. In questo caso non lo faccio. Qua andiamo a scegliere un tema tra quelli disponibili, quindi non da quelli che vediamo con scritto upgrade, quelli senza. Andiamo a scegliere, ad esempio, andiamo su Airwhite. Qui possiamo anche effettuare altre modifiche, al custom appearance, al background, ad esempio, ai pulsanti, ai colori dei pulsanti, alla fonte, e così via. Quindi, se volete, potete farlo. In questo caso io lo tengo il più semplice possibile e vado semplicemente sulla sezione links e vado a creare il mio primo link. Cliccando su Add new link. Allora, il primo link, la prima offerta che avevamo visto era... che ottieni una gift card sul mercato da 150 euro. ci clicchiamo sopra, andiamo a copiare questa linea di testo, almeno che non volete scriverne una voi, quella che volete. Vado semplicemente a copiare e incollare io. Qua andiamo a prendere il nostro URL, lo copiamo e lo andiamo a inserire in questa sezione. E ci dice Unsafe. Quindi questo l'ho fatto apposta perché, almeno che noi andiamo a accorciare il nostro URL tramite un servizio di Google oppure di TinyURL, non funzionerà. Quindi, andiamo su tinyurl.com per andare a shorten il nostro file. Lo copiamo in questa casella. Clicchiamo su Make TinyURL. Andiamo a copiare questo URL accorciato. Copiamo e lo inseriamo nella stessa sezione di prima e vediamo come ora ce l'ha accettato. Qua possiamo lasciarlo così oppure possiamo inserire una thumbnail, se vogliamo. Andiamo a inserirlo in questo caso perché risulta essere un pochettino meglio, anche dal punto di vista visivo, naturalmente con il thumbnail. Upload your own thumbnail. Selezioniamo il file. Save. Upload. Ok. Abbastanza bello. Ok, inseriamo un nuovo link. La prossima offerta era dell'iPhone 13. Presentazione dell'iPhone 13. Allora, copiamo solo questo qui e andiamo su Vinci un iPhone 13. Copiamo il link. TinyL short in another. Copiamo. E incolliamo. E inseriamo il thumbnail. E andiamo velocemente a inserire anche la terza offerta a New Link. La terza offerta abbiamo detto che era quella della PlayStation 5. Eccola qua. Entra per una possibilità di una in una PlayStation 5. A volte sì, bisogna correggerli perché di vincere una PlayStation 5. Una PlayStation 5. Ok. Copy link. Un thumbnail. Set thumbnail. Ok, tutto inserito alla perfezione. Qua naturalmente possiamo vedere il preview del mobile. Qua già in default. Se vogliamo invece vedere il preview del desktop clicchiamo su questo link qua che è già pronto per noi da condividere. Prendiamo la nuova finestra. Questo è come la nostra pagina apparirà su un desktop. E questo è tutto per la creazione del nostro lead magnet. Naturalmente possiamo andare a cambiare il nostro nome di profilo. Se vogliamo. Quindi se vogliamo andarla a chiamare col mio nome e cognome, ad esempio. Possiamo farlo. Inseriamo una chioccioletta anche. Ecco possiamo andare a scegliere un altro tema. Se vogliamo possiamo andare a cambiare il colore dei tasti e tutte quelle cose che vi dicevo prima. In questo caso però non vado a farlo perché mi piace già così. Quindi abbiamo il nostro lead magnet. Abbiamo il nostro URL e che possiamo andare a promuovere immediatamente. Dunque il terzo importantissimo step è quello naturalmente di andare a promuovere le nostre offerte. E qua possiamo un pochettino sbizzarrirci. Quindi ricordiamoci che abbiamo creato un bridge page. Quindi non andiamo a dirigere direttamente i visitatori non andiamo a includere un link su Facebook, su Twitter, su Pinterest che porta direttamente a questa offerta. Abbiamo creato una pagina bridge che è appunto questa qui. Quindi per andare a promuovere possiamo andare ad esempio sul nostro profilo di Facebook. Chiaramente non andiamo a fare troppe troppe volte. Se però ci sono delle offerte vantaggiose che magari vi sentite di condividere anche con i vostri amici e parenti perché non farlo diciamo a intervalli più o meno regolari. Chiaramente se le andiamo a inserire dieci volte al giorno magari qualcuno si potrebbe arrabbiare. Dopodiché possiamo andare anche a cercare dei gruppi. Se digitiamo offerte gratuite su Facebook possiamo dire che ci sono un sacco di gruppi dedicati appunto a offrire offerte, coupon, sconti e così via. Questo qua 28.000 membri, 41.000 membri, 293.000, 16.000. Quindi possiamo andare a unirci a queste comunità e poi andare col tempo a postare i nostri link alle nostre offerte. Oppure andiamo semplicemente su Pinterest, anche Pinterest è molto interessante per questo tipo di promozioni. Basta digitare una keyword qui nella barata di ricerca come Coupons per avere un sacco di pins che appunto si dedicano alla promozione di Coupons, save money, risparmio, sconti e via dicendo. La maggior parte sono tutti quanti in inglese, magari ce n'è qualcuno in italiano. Non so neanche dove sono, comunque dovrebbero esserci. Comunque niente vi vieta di andare a creare un'offerta anche in lingua inglese. Avete visto il procedimento è molto semplice, basta andare su CPA Grip, scegliere Stati Uniti oppure Inghilterra e andare a fare la stessa cosa che abbiamo fatto per l'offerta in lingua italiana. Quindi non dobbiamo andare a scrivere assolutamente niente. Il traffico naturalmente deve provenire dagli Stati Uniti oppure dall'Inghilterra, dall'Australia, dalla Canada, dai paesi dove si parla inglese. Quindi non possiamo andare a promuovere un'offerta in lingua inglese se il traffico che abbiamo è tutto quanto in Italia, nel senso che il tracking non funzionerà e non guadagneremo assolutamente niente, anzi l'offerta proprio non funzionerà nemmeno. Veremo ridiretti a un'altra pagina perché, come ho detto, è molto importante da dove proviene il traffico per quello che riguarda il cost per action. Anche su Reddit basta digitare coupon codes sulla barra di ricerca e anche qui abbiamo una serie di threads che anche in questo caso si occupano di sconti, coupons e così via. Quindi anche in questo caso possiamo andare a unirci a questa comunità e andare a postare i nostri link. Oppure possiamo andare a creare un nostro gruppo su Facebook, andare a riempirlo di gente pian piano, effettuando inviti e così via. Dopodiché andiamo a postare giornalmente le nostre offerte e lo stesso possiamo fare anche su Pinterest, se vogliamo. Andiamo a creare la nostra bacheca, andiamo a inserire i nostri pins, andiamo a farli bene, magari creiamo qualche video e possiamo farlo stesso anche con tutti gli altri social che sono a disposizione come YouTube, come Twitter, come Instagram, come TikTok. Cercate di essere magari un pochettino creativi, andate a creare magari qualche video per presentare il vostro coupon piuttosto che scrivere soltanto Vinci un iPhone 13. Cercate di essere un pochettino più dinamici e sicuramente andrete ad ottenere risultati molto molto migliori. Direi che è tutto per questo video, lo teniamo bello corto. Potete vedere come è facile l'intero procedimento. Davvero in 10 minuti riusciamo a creare una lead page che possiamo andare a promuovere già da subito. Chiaramente non aspettiamoci di creare una lead page e cominciare a fare i soldi a palata. Dobbiamo unirci a un sacco di gruppi, andare a promuovere le nostre offerte nel migliore dei modi e soprattutto dobbiamo essere costanti. Quindi dobbiamo andarne a creare diverse e andare anche a diversificare le nostre offerte sia dal punto di vista di quello che offriamo sia dal punto di vista anche di poi dove le andiamo a pubblicare. Quindi questo è tutto. Mettetemi commenti sotto questo video se avete bisogno di qualche ulteriore delucidazione. Io vi saluto. Non dimenticatevi di cliccare sul like a questo video se l'avete trovato naturalmente utile e interessante e soprattutto il subscribe al mio canale per la notifica immediata dei miei futuri video. Ci vediamo alla prossima. Ciao!